Benvenuti ragazzi a questo nuovo video dove oggi giocheremo a Clash Royale Così potrete vedere tutti come sono scarsa Crash Royale Hanno cambiato lo sfondo? Carica! Forza! Ecco Oh Avevo già una cassa durata da aprire E la prima E non abbiamo trovato niente Valkyria Che sta roba? Valkyria Valkyria E faccio un'altra Valkyria 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 è andata ecco spaccamuro loro sono fortissimi se il cacciatore si leva cavaliere nooo non è sui cavaliere lì maledetti goblin oh no dai qui e basta sto mini becca oh metto anche il spaccamuro adesso andate spaccamuro andate ce la possiamo fare siamo forti no dai basta sto barile goblin mi ha rotto io che è andato buonissimo vai 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 ammaccateli regalino e basta sto barile goblin mi ha rotto vittoria beh non sono male sono tornato al punto dove ero qui mi fa scegliere alle 550 coppe mi fa scegliere tra la stregga e con lo scheletro gigante io scelgo lo scheletro gigante queste sono le mie carte e non ne temo che cacchio è questo hanno aggiunto una nuova cartella e non so facciamo un'altra partita ci vabbè già con gli scheletri cosa è questo con gli scheletri sta quel bombarolo che mi dà un po' fastidio mi becca no prima torri è andato becca con cacciatore vediamo un po' come va non è mai arrivato spaccamuro yes valchiria mi prende i colpi la valchiria da anche un bel po' di danno no 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 bloccate quel gigante no 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 vabbè vuoi mettere qualcos'altro oh via di sto cavaliere non ho poca vita no 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 non va bene non va bene visto come sono scarsa a clash royale riproviamoci non mi arrendo non mi arrendere ma non mi arrendere non mi arrendere ma che vuole fare questo fermate la partita facciatore quelli volanti e scherzi si va bene su scorsi e basta mandarmi i messaggi che cavolo non posso rispondere e basta papà tengo mio padre che mi sta chiamando ma che cavolo glielo devo dire che mentre faccio il video non mi deve chiamare dai un'altra botta no e non ti lancio la palla di poche io erano non fermate vai di carica di carica bravo vabbè sti scherzo forse mi sta mettendo di tutto so vieni a qui goblin dai e basta vabbè sono impegnati con il mio cavallero la valchia come si chiamano gli sgherli sono super fastidiosi valkyria subito stana valkyria che arriva no non ce la facciamo guarda lui da sponato no 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 non ce la faccio parito a quanto vuole non abbiamo né vinto né perso ma c'è un'altra partita cavalliere no i scheletri no dai quando sono in tanti sono iper fastidiosi valkyria 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 non ne posso scopare valkyria 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 prima corre andata Miniperta vai 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 C'è il bro Ha un sacco di danno Vittoria Più 30 coppi Yeee Cosa scelgo La Valkyria E' ovvio E' iperpotente Metto a fare anche questo Mi potenzio e la Valkyria Che diventa iperpotente Non importa Di prendere un altro forziero Tacciatore Ma è stato furbo No Maledetto Ce l'ho No il dragon Non l'ho ancora sbloccato Ormai tutti ce l'hanno Valkyria Quando è diventato potente Lui ha allevato niente Vediamo quanto è il cavaliere Il cavaliere è iperpotente Non mi laggare Basta E poi non è neanche un problema No 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 Prima torrandata Vai sui scheletri E io ci metto la Valkyria Valkyria vai ma basta sto drago è impossibile da battere il drago ci metto il cavaliere è forte no, 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 ci perdo ci perdo spam, no, carta a caso no, vai, Valkyria salvami tu scacciatore il drago di merda mi sta mettendo di tutto questo no vai ammassalo ammassagli la famiglia ce la possiamo fare dai vittoria sì sì vittoria vittoria mamma mia beh ragazzi abbiamo fatto tanto su flash avete potuto vedere quanto sono scarso oppure quanto sono forte scrivetelo voi nei commenti lasciate un mi piace il video finisce qua e ci vediamo un prossimo video iscrivetevi e attivate la campanellina ciao ciao iscrivetevi ho iscrivetevi iscrivetevi Grazie.